Musica La sfida ci chiederà appunto di localizzare il camion per il trasporto mutante Quindi dovremo appunto andare nella mappa e cercare questo camion E avremo completato questa sfida Dove si trova questo camion? Li stiamo subito dirigendo Infatti ci vediamo qui dove c'è anche il faro Adesso ve lo pingo anche sulla mappa Ok, attiriamo qui dove c'è appunto questa città Questa città con questi rift Ok, farmiamo un po' di materiali Ok, giusto per fare una scala Ed ecco qui il camion per il trasporto mutante Che con la patch di Iris è anche aperto Quindi qualcuno è scappato da qui Avremo la mappa, ci troviamo esattamente qui Fra il dominio di Doom e il faro Esattamente in questo punto Qui non vi potete sbagliare Venite qui, visitate, trovate questo camion E avrete completato questa sfida settimana 5 di Wolverine E vi sarete portati a casa anche il suo deltaplano In attesa il giovedì prossimo di sbloccare la skin e tutto il restante set Quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto Se così come altrimenti vi ricordo Di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale E attivando la campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi tipi di video E live con lo schieno vado a taglia Infine condividi questo video Tutti i miei amici e mi fai dire anche a loro Come completare appunto la sfida settimana 5 di Wolverine Noi ci vediamo in un prossimo video E alla prossima live Grazie a tutti